... Colpo di testa di Benedetti però ha tentato di colpire la palla con la mano João Paulo probabilmente ci è riuscito Carannante rilancia un pallone il colpo di testa di Morello fallo commesso su Pasculli calcio di punizione in favore del Lecce 5 minuti alla fine Pasculli ed è il pareggio gran calcio di punizione di Pasculli 1 a 1 al 40esimo ecco rivedete il tiro di Pasculli ce lo rimanda il regista Manni che si va a infilare a fil di traversa 1 a 1 4 minuti alla fine anche questo è un gol importantissimo nel campionato tre uomini contro Parente ma è retrocesso anche Maiellaro discussione fra Carannante e Parente grazie a tutti 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 grazie a tutti